Ringraziamo il magnifico Rettore per essere venuto qui ad aprire questa giornata. Pochissime parole, ne volevo dire ancora meno, ne spendo qualcuno in più, visto la presenza o la non presenza che abbiamo verificato oggi. Insieme al delegato alla ricerca, il professor Casoni, come direttori delle scuole di dottorato presso il nostro Dipartimento di Ingegneria, abbiamo pensato di organizzare una giornata fondamentalmente per festeggiare voi, per festeggiare i dottorati, per festeggiare chi riceve i premi e soprattutto per enfatizzare questo lavoro che stiamo cercando di fare con i percorsi di dottorato. Abbiamo invitato le aziende, abbiamo invitato chi poteva essere interessato a questo percorso. È il primo passo, è la prima giornata che organizziamo tutti assieme, quindi come qualsiasi evento nuovo si può correggere, si correggerà in corso d'opera per renderlo più partecipato possibile. E soprattutto, come diceva prima il magnifico Rettore, queste due scuole di dottorato in ingegneria sono e debbono essere caratterizzate da un'interazione molto forte con il territorio. Il territorio è una parola facile da spendere e difficile da realizzare, lo vediamo qui. Bisogna interessare chi all'esterno può venirci incontro, può usufruire dei nostri percorsi di dottorato e dei nostri dottorati. Cercheremo di rendere più sistematici questi eventi, di collaborare maggiormente, a partire soprattutto da Confindustria, ma anche con tutte le realtà imprenditoriali, economiche e finanziarie del territorio. La crescita, il fatto di realizzare un percorso formativo con dei dottorati che escono dal Dipartimento di Ingegneria, dalle due scuole, preparati e pronti sia a sviluppare un percorso di ricerca, perché non dimentichiamo che il dottorato è l'anticamera a un'attività di ricerca presso le strutture universitarie, enti di ricerca pubblici e anche verso le strutture private. Quindi c'è un insieme delle due finalità che contraddistingue questo percorso. e cercheremo di potenziare entrambe le realtà, entrambe le possibilità e questo che il Tecnopolo, si diceva prima, è il luogo di incontro tra le imprese e l'università. Nel fatto specifico il Dipartimento di Ingegneria è più vicino, ma non dimentichiamo anche altri dipartimenti interessati a questo percorso. Bene, questo luogo di incontro cercheremo di valorizzare il più possibile. Tornando a noi è un momento di, ripeto, di incontro e di festa. Vorrei rimarcare per quello che riguarda il Dipartimento l'impegno che abbiamo mantenuto e che confermiamo negli anni l'istituzione di un premio per le due migliori tesi di dottorato, una per la scuola di dottorato di Ingegneria Industriale del Territorio e l'altra per la scuola di ICT, che oggi vede premiati in realtà tre di voi perché uno dei due dottorati ha deciso di assegnarlo il sequo a due candidati e di questo ne parleremo successivamente. Ma vorrei rimarcare come Dipartimento, siamo molto contenti di questo perché per istituire queste borse abbiamo utilizzato una percentuale di fondi commerciali, la cosiddetta attività conto terzi, che noi abbiamo sempre detto e nei fatti lo stiamo dimostrando, essere anche una fonte di finanziamento, di promozione per la ricerca. Questo premio non è una dimostrazione, non è una dimostrazione quanto di questi fondi noi riutilizziamo per strumentazione, segni di ricerca, eccetera. Quindi è un altro importante passo di interazione con il territorio che noi vogliamo valorizzare anche per premiare le tesi. 2.500 euro è una cifra che può apparire, può essere relativamente alta o bassa, ma vi assicuro che nel contesto nazionale rappresenta un quantum significativo. Solo per farvi un esempio, le borse del Comitato Leonardo di Confindustria Nazionale, premiate in presenza del Presidente della Repubblica con il suo ovviamente delegato, ha un importo intorno ai 1.500 euro l'una. Quindi 2.500 euro per premio è significativo, poi si può sempre fare di più e di meglio, ma è un buon risultato che il Dipartimento è orgoglioso di poter mettere a vostra disposizione. Un'altra cosa importante è che al di là degli sforzi economici dell'amministrazione centrale, quindi di Ateneo, noi come Dipartimento finanziamo anche buona parte dell'attività di visiting professor con l'importo che complessivamente corrisponde a circa 7.000 euro per dottorato per finanziare questi professori che ovviamente venendo dall'estero sono un valore aggiunto della vostra preparazione, della preparazione dei nostri dottorati. Termino qui dando la parola al Professor Casoni e ai due direttori delle scuole, prego Maurizio, e vi ringrazio tutti per essere venuti. Ripeto, è il primo momento che intendiamo ripetere negli anni, intendiamo raddoppiare, ne parlavamo prima, con un altro evento con Confindustria, magari intorno a settembre-ottobre, principalmente legato, chiamiamole, ai dottorati finanziati dalle imprese e ai dottorati industriali che hanno una loro caratteristica specifica, uno più eventi, in maniera di rafforzare questo tipo di interazione, di presenza verso l'esterno, territorio e comunque in generale verso l'esterno. Grazie a tutti e buona giornata. E grazie a Maurizio.